Come a Betlemme la drammatizzazione della natività, un grande successo qui all'Istituto Salesiano di Soverato, siamo con il regista Tonino Pitelli, grande successo di pubblico ma soprattutto un lavoro durato tre mesi che però ha dato i suoi frutti e grande soddisfazione. Sì è vero, ho notato la soddisfazione negli occhi delle persone, degli spettatori ma soprattutto il silenzio che era da paura, era un silenzio tombale, vedere tutta l'apatia piena di persone senza un colpo di tosse o per fortuna uno squillo di telefono davvero faceva abbastanza impressione. Sono molto contento, sono molto contento per le cose fatte, per le cose dette certo. A noi queste tre mesi di lavoro rimane l'orgoglio di aver creato un gruppo, agli spettatori auguriamo che rimanga più a lungo l'emozione, le sensazioni che siamo riusciti comunque a trasmettere. Una chiusura con un messaggio di pace che sia un Natale pieno di pace per tutti ma soprattutto tante persone che si sono unite in questi tre mesi perché ricordiamo che ci sono state oltre 130 persone tra comparse, attori e chi ha lavorato dietro le quinte quindi veramente anche dal comprensorio tante persone che si sono date da fare. Sì questa è una cosa molto bella perché abbiamo persone da Olivadi, da Badolato, da San Sostene, da Davoli, Santa Caterina, c'è davvero un lavoro, Petrizi soprattutto, un lavoro corale, rischi di dimenticare qualcuno perché anche quando io cerco di fare i nomi dei partecipanti davvero diventa difficile perché c'è il coro e perché c'è la squadra dei soldati e perché c'è la squadra dei video e la squadra degli scenografi, insomma la ballerina, rischi sempre le zampogne, non rischi sempre di dimenticarne qualcuno quindi siamo veramente tanti. Sono molto contento, sono molto contento, grazie. Il grande successo di Come a Betlemme qui all'Istituto Salesiano Risoverato è frutto del lavoro di tante persone tra cui Massimo Gregoracci che ha coordinato l'organizzazione, sicuramente tanta soddisfazione dietro un duro lavoro che però ha premiato tutti. Sì, è stato un duro lavoro che è nato da un progetto il 24 settembre quando ci siamo incontrati con Antonio, l'Opera Salesiana tramite me ha chiesto ad Antonio di realizzare questo spettacolo che non era finalizzato allo spettacolo di oggi ma ad un progetto che è durato tre mesi e che ha visto un gruppo di persone condividere tanti momenti insieme, tante mencize sono nate, il tutto per cercare di promuovere la parola di Dio attraverso uno spettacolo e attraverso quindi una recitazione come quella di oggi. Il pubblico ha risposto in massa, grande presenza, indice del fatto che il duro lavoro di questi mesi è stato apprezzato non poco. Sì, siamo molto contenti di quello che è stato il pubblico, malgrado il tempo magari un pochino di freddo, ci rendiamo conto che è dicembre, ci rendiamo conto che siamo all'aperta e quindi fa parecchio freddo però devo dire che il pubblico ha partecipato numeroso ma la cosa bella è stata l'attenzione del pubblico a tutta la manifestazione, pubblico che ha partecipato con molto silenzio proprio perché era interessato al tema. Il tema di oggi è stato ripreso interamente dai Vangeli per cui non c'è nulla di costruito se non l'interpretazione del Vangelo. Don Gino Martucci, direttore dell'Opera Salesiana di Soverato, questa sera un grande spettacolo, tanto a gente come a Betlemme, un lavoro certosino durato mesi e mesi che ha dato i suoi frutti, grande emozione anche tra il pubblico. Esatto, è stata un'esperienza davvero fantastica. Penso che la tradizione e la fede della nostra gente abbia saputo poi manifestarsi, esprimersi, concretizzarsi in un'opera teatrale e artistica non indifferente. Ho sentito più volte ripetere questo commento che tante volte noi abbiamo tante ricchezze e non le sappiamo valorizzare. Una di queste è proprio quello che abbiamo visto questa sera in due spettacoli. Ecco, questa sera l'Istituto Salesiano in occasione del bicentenario della nascita di Don Bosco, quest'anno fantastico, si è reso un po' il palco, come dire, di questa rappresentazione. In realtà è stata una mossa strategica che abbiamo avuto, quella di coinvolgere Antonio Pittelli e tutta la sua compagnia, ma tutta la gente. Abbiamo radunato tantissimi paesi e penso che il circondario, i parroci, i sindaci dei paesi qui attorno a Soverato debbano essere tutti orgogliosi di questa partecipazione. Davvero più di 150 persone coinvolte in questo spettacolo che non è dei Salesiani, fatto nel cortile dei Salesiani che in questa serata, anche molto mite, si è prestata come una terrazza sul mare. Ecco, penso che questa sera possiamo davvero dire che l'Istituto è tra il cielo e la terra, dove il cielo e la terra si sono incontrati e hanno prodotto l'incarnazione di Cristo. Grazie di cuore davvero a chi ha voluto collaborare. Hai detto tu un lavoro certosino, esatto, tre mesi esatti di lavoro, di attenzione, di dedizione, senza mai una parola fuori posto, senza mai uno scatto di ira, un gesto di stizza. Io penso che questo sia il risultato più bello. Il miracolo è stato quello di aver radunato tanta gente, il miracolo è stato quello di aver offerto a tanta gente questo spettacolo. Anche Dio ha voluto benedirci con una serata, come dire, invernale certo, ma non freddissima e di questo io rendo lode al buon Dio che non ci lascia mai soli.